...attacco a un edificio storico è un atto criminale nazista, chi lo tocca deve essere arrestato, arrestato, qualunque amministrazione tocchi il teatro a venti deve essere presa a calci nel culo, qualunque amministrazione, non si tocca più nulla, è ora di smetterla, che distruggono le case loro, i loro condomini di merda. Ma la volontà della città è quella di recuperarlo in realtà, secondo il progetto originario del Poletti, chi è il coglione che vuole fare in un modo diverso? C'è una polemica perché il Poletti e il Poletti, non c'è un'idea, qualunque altra idea è un'idea criminale, è un'idea di assassini che odiano la loro città, quindi chiunque lo faccia, io non so nulla, ho parlato con il mio amico assessore del fatto in sé, ho parlato di questo, so che esiste la questione, c'è il nuovo assessore che è pur degno di interesse, quindi non so che di interesse, ma qualunque progetto che sia estraneo a una ricostruzione fedele rispetto al Poletti è un progetto criminale, quindi io sarò contro per sempre e lì inonderò di merda, il terremoto sarà niente al confronto.